Il piano contro la xylella che prevede lo staticamento degli ulivi infetti sarà attuato in 16 comuni della provincia di Lecce e sarà concluso il prossimo 8 agosto, come annunciato dal commissario per l'emergenza Giuseppe Silletti. Contrario al piano è il comitato voce dell'ulivo perché imposto dall'Unione Europea senza la mediazione della politica nazionale. E' falso, fa notare il comitato, il messaggio veicolato in questi giorni in modo subdolo secondo il quale l'utilizzo degli insetticidi sia minimo e riconducibile alla semplice pratica di lotta alla mosca dell'ulivo. La voce dell'ulivo punta il dito contro il silenzio di chi dovrebbe rappresentare il mondo agricolo e giudica inquietanti i cartelloni che saranno posti per indicare le zone infette. Critico anche l'ex deputato Ernesto Abaterusso che si chiede come si possa abolere l'abbattimento degli ulivi che sono simbolo e patrimonio di un intero territorio e propone incentivi per la ricerca perché si trovi una soluzione scientifica. Chiede anche che si riconoscano i danni dei proprietari dei terreni afflitti dalla Xilella e che si attuino le buone pratiche agricole, scrive l'esponente del Partito Democratico, che da troppo tempo sono state abbandonate. Intanto il quotidiano Il Foglio riporta la scoperta, chiamiamola così ma il fatto era già noto, di una trattativa sugli olivi OGM scoperta compiuta dall'attrice Sabina Guzzanti. Una notizia mai confermata che riguarda la multinazionale Monsanto e lo Stato italiano. In Brasile sarebbe stata creata la Xilella fastidiosa per poi rimpiazzare gli olivi sradicati con altri geneticamente modificati. Di sicuro c'è solo un'inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per capire se il batterio killer raggiunto dalla Costa Rica sia stato introdotto volontariamente in Puglia. Due le strade seguite dai magistrati. Una che il batterio sia stato importato in coincidenza di un convegno scientifico su un altro tipo di Xilella tenutosi nel settembre 2010 dallo IAM, Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano nel Barese. Istituto che gode per Lecce di una immunità assoluta e quindi non può essere oggetto di indagini. L'altra pista immagina che il batterio killer sia giunto attraverso piante ornamentali dal Costa Rica. In questo caso emergerebbero omissioni nel contrasto dell'epidemia da quando è scoppiata l'emergenza.